La priorità numero uno deve essere l'economia e il lavoro. E il Partito Democratico da subito chiede che questa finanziaria sia orientata e renda centrale i temi del lavoro e dell'occupazione. Ma noi crediamo che si stia assistendo a una sezione di grande criticità nel mondo dell'economia e del lavoro di questa regione. E ciò che ci preoccupa di più è che sembra che nessuno se ne stia occupando. Da Fedriga a Bini mi sembra che questa maggioranza sia impegnata in tutt'altro, mentre sindacati, forze datoriali chiedono immediatamente interventi e attenzione sui temi dell'economia e del lavoro. Noi come Partito Democratico non abbiamo compreso e ovviamente neanche accettiamo lo slittamento di quel provvedimento che doveva essere probabilmente il provvedimento più importante in questo momento che era il rilancio impresa. Stiamo discutendo di tutto, dalla caccia e pesca agli agriasili, ma non stiamo discutendo di economia e di lavoro. Noi ci aspettiamo che questa finanziaria abbia come centrale e come prioritario il tema del lavoro e dell'occupazione. E soprattutto chiediamo che questa maggioranza, a partire dal Presidente Fedriga, si renda conto della crisi che sta vivendo la nostra regione, ne prenda atto e comincia a mettere in campo le opportune misure politiche e le opportune scelte politiche per l'economia della nostra regione.